salve caro travaglio il tuo capitano santen chan che è una persona molto navigata c'è anche una spiegazione alternativa alla costante perenne e ciclica sfiga del partito democratico il pd la maledizione di montezuma fa sì che ogni viaggiatore che intende sfidare le alture dei picchi montani dove regno montezuma si cagli addosso ecco forse il pd c'è anche lui una maledizione storica la maledizione di berlinguer ogni volta che progressisti di sinistra provano a fare una coalizione per andare al governo si smerdano magari è una risposta più esoterica della spiegazione che ho dato prima magari no chissà che non sia così che sia proprio una maledizione tipo montezuma la maledizione di pertini beh ciao mi raccomando se ti serve un capitano ci sono io santen chan